Una lista civica aperta intraprende la sua corsa verso le elezioni amministrative 2024 per sindaco e consiglio comunale di Pesaro. Si chiama Vieni Oltre, la lista coordinata dall'avvocato Pia Perricci e che sabato in municipio ha offerto la sua prima bozza programmatica di un iter elettorale all'insegna della sostenibilità e della partecipazione allargata ai cittadini. Elisabetta Barbadoro ha presentato un gruppo che punta ad allargarsi fondandosi, almeno per il momento, sui nomi di Italo Campagnoli, Alessandro Canalini, Achille Paianini, Rosa Maria Gatti, Maurizio Tonelli, Tiziano Gnassi, Marco Palanghi, Michele De Giorgio e Giulio Zonghetti. Innanzitutto noi ci distingueremo per il rapporto diretto con i cittadini perché l'amministrazione deve essere al servizio dei cittadini e non i cittadini a servizio dell'amministrazione. Sinora nella politica italiana e in quella pesarese c'è stato troppo distacco fra le esigenze dei cittadini, fra i cittadini e del comune. Noi invece vogliamo rendere Pesaro la città dei cittadini e non più un trampolino di lancio per altri scopi. Lista aperta alla cittadinanza che costruirà il suo programma su confronti costanti. È un rapporto diretto con i cittadini tant'è vero che inizieremo a fare immediatamente e continuerà per sempre anche laddove noi supereremo le elezioni politiche delle riunioni quindicinali in ogni quartiere di Pesaro perché ci sono quartieri che sono stati lasciati all'abbandono dove ascolteremo i cittadini e sulla base di questo si prenderanno le decisioni comunali. Vieni oltre sceglie dunque una tipica espressione pesarese come metafora di un invito alla partecipazione. Ma vieni oltre non è solo un'espressione, significa vieni insieme a noi, è la tua città, fai qualcosa per la tua città. Noi siamo qui, tu insieme a noi, perché noi senza di te non facciamo nulla e vogliamo fare tutto solo per i cittadini. Tant'è vero che noi siamo tutti dei cittadini ordinari, non siamo mai stati in politica e non vogliamo fare la politica tradizionale. Per questo tengo a precisare che all'interno dello statuto c'è una clausola messa di comune accordo fra tutti noi che prevede la non possibilità di accordarsi con altri partiti. Cioè noi non faremo mai coalizioni con nessuno, o vinciamo o perdiamo. Noi siamo noi, vieni oltre. Pia Perricci al momento è la coordinatrice di una lista civica che ancora non ha definito chi sarà il candidato sindaco per Pesaro. Sicuramente sarà una donna, una donna perché è il momento delle donne, perché le donne sono coloro che danno la vita e fanno nascere. E quindi noi vogliamo far nascere Pesaro e perché Pesaro non ha mai avuto un candidato donna. Le aspettative vinceremo sicuramente.